Carissimi Pogonotomaniaci, bentornati e bentrovati sul canale di Pogonotomania. Questa sera prosegue la nostra rubrica 4 chiacchiere per cause di forza maggiore. Per quale motivo? Perché non ricordo se è stato ieri o l'altro ieri. Ero in guida, quindi ero al lavoro e arriva un messaggio privato, arriva un altro, arriva un altro ancora. Caspita è successo, pensavo fosse successo qualcosa di grave. A un certo punto inizio a leggere i messaggi e la quasi totalità degli interlocutori chiedeva ma hai visto il video di Giuseppe Caccamo, hai visto il video di Caccamo, hai visto qua, hai visto cosa ne pensi? Caspita di video ha fatto, porca miseria, ha detto mamma mia. Vabbè, è arrivato a casa, quindi ero incasato, mi sono messo a guardare il video e il video in questione tratta un argomento particolare o quantomeno un argomento già trattato ma non in modo così esaustivo. Quindi intanto, prima di continuare, ringrazio Giuseppe per l'impegno perché è veramente un video corposo, un video che mancava e tant'è che vabbè, lui lo sa, gliel'ho scritto anche nei commenti. Grazie, grazie di cuore. E in poche parole, di cosa tratta questo video? Ah, apro e chiudo una parentesi, andatelo a vedere perché ne vale veramente la pena tratta della comparazione fra un numero decisamente elevato di lamette andando a trattare proprio la parte tagliente della lametta, lamette nuove fra l'altro dicevo, comparate con il filo di un rasoio mano libera il quale il rasoio mano libera ha alle spalle un numero io credo abbastanza importante di rasature vale a dire, se non erro, 8 rasature. Cosa si evince, in modo così riassuntivo dal video che pochissime, ma io oserei dire, nessuna lametta presa in considerazione benché nuova che fosse riusciva a primeggiare ma nemmeno forse a pareggiare la qualità del filo del mano libera in questione questo ha causato un po' di sconforto un po' di sbandamento fra gli utilizzatori delle lamette allora, cosa potremmo dire in relazione a questo? intanto potremmo affermare l'evidenza cioè tutti coloro i quali hanno utilizzato, utilizzano o probabilmente utilizzeranno un mano libera enfatizzano il fatto che si ha una percezione di dolcezza nella rasatura che né lo chavette né probabilmente il rasoio di sicurezza riescono ad equiparare e questo è un primo aspetto fondamentale imbattibile che non si può scalfire non si può scalfire, non si riesce a scalfire minimamente secondariamente però cosa potremmo dire così quantomeno per poter alzare una mano e dire ma guarda forse potremmo ribattere qualcosa è questo qualcosa che potremmo utilizzare come risposta è dato dal fatto che le lamette che utilizziamo comunemente noi utilizzatori di D.E., utilizzatori di Chavette sono lamette che vengono affilate con dei sistemi probabilmente industriali che si discostano dall'arte dell'affilatura del mano libera che io sappia per affilare un mano libera occorre passarlo su determinati tipi di pietre con delle granature non so se si possa dire granature differenti lo strumento va poi scoramellato quindi c'è proprio un lavoro alle spalle che va ad esaltare una artigianalità che senz'altro surclassa ma l'abbiamo visto nel video a livello qualitativo il processo industriale della lama della lametta scusate immaginate un po' se per affilare una lametta dovessimo pagare una persona affinché svolga le stesse operazioni necessarie per affilare un mano libera beh, io A. non so quanto costerebbe un blister di 10 lamette B. non so in quanto tempo si potrebbe riuscire a produrre un blister da 10 lamette quindi intanto parliamoci un attimino con questa scusa se vogliamo le lamette costano meno evidentemente valgono meno c'è poco da dire e poco da fare come viene affilata una lametta? io sinceramente non lo so l'ho cercato ho cercato questi procedimenti un po' di tempo fa quando feci il mio video personale sulle lamette da barba ma c'è una barriera oltre a un certo punto non si può andare non si hanno notizie non si hanno informazioni qualcuno se non erro mi ha detto guarda che vengono affilate tramite un processo un procedimento chimico come vengono affilati vengono appuntiti gli amidi a pesca quindi credo credo non lo so sono nell'ignoranza più totale che si utilizzino magari degli acidi magari anche con qualche funzione dell'acido a livello di soluzione elettrolitica io credo sia qualcosa del genere non penso non penso ma non lo so non penso ci siano delle mole che vadano ad affilare queste lame però ribadisco sono nell'ignoranza più totale ammettendo che sia una filatura chimica può essere che gli acidi in questione vadano a erodere l'acciaio della lama e creino quelle seghettature che Giuseppe definisce giustamente coltello da pane ora si è creata almeno fra qualcuno dei miei iscritti una situazione quasi pandemica oddio mamma mia adesso cosa mi succede calma calma facciamo un bel respiro vero vero innegabile la scarsa qualità del filo delle lame e non potremmo non potrei obiettare nulla perché c'è il video di Giuseppe che parla sembrano veramente coltelli da pane tranne qualche rarissima eccezione tipo cosa che vi ha fatto vedere le cae le astraverdi e le helios che risultano essere buone lame però a parer mio se anziché proporre un rasoio mano libera con alle spalle otto rasature se avesse proposto un rasoio mano libera appena affilato probabilmente avrebbe fatto impallidire il 100% delle lame prese in considerazione dicevo cosa possiamo fare per calmare gli animi allora io ho fatto una cosa molto semplice non ho preso uno strumento con le potenzialità di quello utilizzato nel video di giuseppe ma semplicemente ho preso un ingranditore che utilizzavo per guardare le diapositive e giusto per rendermi conto di quanto fosse potente l'ingrandimento ci ho messo sotto un cappello un pezzettino di cappello dei miei avrei potuto prendere un pelo di puma ci stavo pensando adesso comunque un cappello dei miei e l'ingrandimento era abbastanza notevole come se avessi visto anziché un cappello uno spaghetto andando a vedere con questo mio ingranditore il filo della lama beh a occhio quindi occhio nudo occhio umano con l'aiuto di questo strumento non si vede assolutamente nulla quindi il filo sembra perfetto e a questo punto potrei giocare una carta a favore delle lamette nel senso che ho usato lamette una vita evidentemente evidentemente sono delle imperfezioni talmente piccole talmente microscopiche tant'è che il video è stato fatto appunto con un microscopio elettronico che che non vanno a influire poi così tanto sulla rasatura mi spiego scusate i tagli i tagli quando me li sono fatti non credo di essermeli fatti per via di questi fili così fra virgolette rovinati ma quando il taglio è avvenuto quando mi è capitato il taglio mi sono reso conto che è stata una gestualità sbagliata da parte mia piuttosto che il rasoio è andato a recidere protuberanze della pelle quindi brufolini pelincarniti e via dicendo e quindi c'è poco da dire poco da fare la lametta comunque taglia ok taglia e si è asportata il lembo di pelle in questione questo cosa cosa lascia presagire lascia presagire il fatto che ribadisco probabilmente sono imperfezioni talmente piccole che senz'altro senz'altro vanno a rovinare la pelle maggiormente rispetto a un mano libera ma l'ho detto all'inizio del video un mano libera probabilmente per via della lunghezza della lama quindi la superficie della lama molto ampia che appoggia quindi una riduzione della pressione in sé un filo così perfetto darà senz'altro rispetto alla lametta una rasatura più delicata non sto dicendo meno profonda più delicata proprio a livello sensoriale tant'è che tutti quelli che utilizzano il rasoio mano libera quasi tutti asseriscono all'unisono che lo chavette è più bastardo perché lo chavette utilizza la lametta vera e propria quindi potenzialità di ferirsi ferirsi per quanto possa valere questo termine maggiore dunque questa questa paura in generis credo che non sia così giustificata mamma mia abbiamo utilizzato le lamette una vita e se Giuseppe non avesse fatto questo video e fossimo restati tutti nell'ignoranza nell'oscurità più assoluta probabilmente non ci avremmo mai pensato resta valido il fatto che alcune lame comunque sono ben fatte e a questo punto ho capito forse perché io da incosciente per circa 5 anni utilizzai tutti i giorni un Fatib vintage con le Helios e non mi ha mai dato problemi beh le Helios rientrano in quello sparuto gruppo di lame con una finitura decente se andaste a vedere il video scoprireste che probabilmente le Kai sono le migliori scusate non sono da buttare le astra verdi altre lame blasonatissime mamma mia lasciamo perdere lasciamo perdere una dentellatura unica che Giuseppe definisce appunto se non erro coltello da pane vero verissimo questo però cosa lascia cosa lascia presagire allora anche il rasoio mano libera dopo un certo numero di rasature vedrà rovinarsi il filo vedrà che questo si vedrà che questo filo diventerà simile al classico coltello da pane e vabbè certo andando a ripristinarlo in mano libera ritorna come al nuovo quindi condizioni pari al nuovo la lametta ovviamente si butta la lametta parte da quanto ho visto una situazione svantaggiata è già dente da pane scusate già coltello da pane però c'è un però non è detto che attenzione non sto giustificando le lamette le aziende come è stato detto giustamente dovrebbero impegnarsi un po' di più trovare delle soluzioni migliori soprattutto quelle che propongono lamette a costi veramente alti rispetto ad altre dall'economicità maggiore che però hanno un livello di finitura senz'altro più eclatante e dicevo cosa stavo dicendo abbiate pazienza e tardi sono tornato adesso dal lavoro ah ecco ok dentellatura da coltello da pane anche il coltello da pane taglia certo che taglia magari taglia meglio il pane rispetto a un coltello liscio ora affinché un coltello liscio scusate ho parlato troppo oggi affinché un coltello liscio tagli il pane senza schiacciarlo prendo il bastoncino francese lo taglio con un coltello liscio affinché questo non vada a schiacciarlo deve avere un'affilatura perfetta il coltello da pane secondo me seghettato non è necessario che abbia un'affilatura così perfetta in quanti ci siamo messi ad affilare un coltello dentellato io credo nessuno però proprio per via della dentellatura andrà in ogni caso ad effettuare un'azione di taglio ora ribadisco il concetto non sto difendendo le lamette assolutamente no hanno una qualità nettamente inferiore rispetto al rasoio mano libera però una volta poste sul viso anche nel caso in cui fossero dentellate andrebbero comunque a garantire la rasatura e giusto per concludere calmiamo gli animi a mio modesto parere è una un'increspatura del filo della lama talmente talmente piccola che anche nel caso in cui andasse a incidere l'epidermide o a graffiare l'epidermide ecco quello che si potrebbe al limite avvertire è un effetto di lama cruda ok ma da qui a pensare che la lama mi vada a creare solchi nel viso io credo proprio di no o nel caso in cui creasse questi solchi sarebbero così talmente irrilevanti da non procurare disturbi da non procurare rasature che debbano essere degne di nota per quanto riguarda eventuali problematiche dovute a questo cioè le problematiche nella rasatura sono a parer mio altre rasoi con l'angolo sbagliato pressione sbagliata insaponata sbagliata poi certo in una piccolissima percentuale ma molto piccola visto le misure che stiamo utilizzando può essere appunto la finitura della lametta quindi queste sono le mie considerazioni non è non vuole essere un discorso in difesa della lama della lametta assolutamente no ho detto chiaramente lo enfatizzo che il filo del mano libera è decisamente migliore ecco questo suo essere migliore probabilmente dovuto anche al fatto che alle spalle c'è una cura maniacale artigianale di quello che è il filo la lametta pam è qualcosa di industriale buttato lì non fa male non fa male guardare il video di Giuseppe e andare a orientare le proprie scelte su quelle che in ultima analisi potrebbero essere comunque e sono comunque lame migliori rispetto a tante altre che vengono proposte nel video quindi carissimi queste sono le mie considerazioni qualcuno di voi mi ha chiesto di fare un video riguardo al video dell'amico Giuseppe eccolo qua spero sia di vostro gradimento ora vado a mangiare perché sono anche abbastanza stanchino un abbraccio a tutti un salutone un grosso ciao da Andrea e dal canale di Pogonotomania ciao ragazzi alla prossima